La visione psico-neuro-immuno-endocrina del dimagrimento e dei biologi nutrizionisti che conoscono a fondo la metodologia Apnei System è molto diversa, è davvero speciale. Non ci si limita a dare solo un piano nutrizionale che davvero è personalizzato sulle necessità del paziente e sul suo stile di vita, ma anche sul suo carattere. A questo si aggiunge tutta una filosofia di riattivazione della matrice connettivale che viene effettuata attraverso delle opportune proposte terapeutiche in assenza della quale il dimagrimento legato solo a una restrizione calorica non si presenta come la soluzione del problema dell'obesità e della fame nervosa. Indispensabile capire che tipo di attività fisica proporre ai nostri pazienti, ma anche suggerire loro delle tecniche di potenziamento emozionale che consentano di vedere positivamente la vita, i problemi e la loro stessa problematica clinica, perché questo nell'insieme è l'unico approccio terapeutico adatto a questa epoca storica. Grazie a tutti.